Buongiorno a tutti, sono Alessandro Vergari, uno dei soci fondatori dell'associazione Video Ripetizioni. Cos'è Video Ripetizioni? È un'associazione no profit nata nel gennaio 2013 che ha lo scopo di diffondere la cultura gratuitamente tramite contenuti multimediali disponibili in rete. Video Ripetizioni nasce dall'idea di tre amici che hanno frequentato la stessa facoltà universitaria e che dopo qualche anno dalla laurea si incontrano grazie alla rete e condividono le proprie esperienze, le proprie idee e le proprie conoscenze. Così nasce la voglia di estendere questo bagaglio culturale e creare un canale multimediale che permette a chiunque abbia un pc e una condizione a DSL di accedere ai contenuti che giorno dopo giorno vengono pubblicati. Ma c'è di più, nella consapevolezza dello scambio culturale possa arricchire le persone e quindi in generale la società che esse compongono, Video Ripetizioni mette a disposizione una piattaforma per la condivisione di contenuti che tu stesso puoi produrre autonomamente. Diffondi anche tu le tue competenze. Entra anche tu a far parte dell'associazione Video Ripetizioni. Visita il nostro sito www.videoripetizioni.com o il profilo Facebook di Video Ripetizioni. Iscriviti al nostro canale YouTube. Tante persone lo hanno già fatto e hanno iniziato a condividere le proprie esperienze in rete. Video Ripetizioni libera dall'energia della conoscenza.